Avrebbe reagito alla rapina del suo Rolex ed è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba. Ecco quanto accaduto a un turista rumeno di 49 anni, colpito da un proiettile in corso Malta a Napoli. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Poggio Reale, intervenuti sul posto, il 49enne in città anche in occasione del suo compleanno, si trovava per strada quando sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti, che gli hanno puntato contro una pistola nel tentativo di rubarghi il prezioso orologio che aveva al polso. La reazione del turista avrebbe innescato l'ira dei malviventi, che hanno esploso alcuni colpi di pistola in direzione del 49enne, uno dei quali lo ha colpito alla gamba destra. Il turista è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è ricoverato in osservazione. Da quanto si apprende, il 49enne non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Poggio Reale, che, come detto, sono intervenuti sul posto, e hanno effettuato tutti i rilievi del caso. I militari dell'arma stanno vagliando la ricostruzione dell'episodio, anche grazie alla testimonianza della vittima. Qualche notte fa, a Caivano, nella provincia partenopea, un giovane di 28 anni è stato ferito anche lui in un tentativo di rapina. Alcuni malviventi hanno cercato di rubare l'auto del giovane, ma, quando lui ha reagito, lo hanno ripetutamente accoltellato. Il 28enne è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato, per fortuna non è in pericolo di vita, e le indagini sono state affidate ai carabinieri. Onoranze funebri Pezzilla. Funerali a rate, anche senza busta paga. Perchè a papà è a morire, ci sta sempre a tempo.